Nel corso del semestre di Presidenza italiana siamo anche riusciti a far comprendere che gli epocali fenomeni migratori connessi con i tragici eventi in Medio Oriente e in Africa costituiscono una vera emergenza europea e che come tale vanno affrontati, mentre sulle sole coste italiane sono stati quest'anno tratti in salvo, col contributo decisivo delle nostre forze della Marina Militare, 170 mila uomini, donne e bambini in fuga dalla guerra, dalle violenze e dalla fame.